Ah, vuole intervenire Umberto Bossi, do la parola al Presidente prima di... Va bene, si può parlare, grazie. Grazie. Allora, devo dire che in merito al lavoro c'è, in tutti i bilanci delle imprese, c'è una sigla di quella che costa più di tutti, è il costo dell'energia, quindi io sono venuto qui assieme a Morgora per mettere giù una bozza di disegno di legge per diminuire il costo dell'energia, che se si vuole i posti di lavoro, se si vuole che le imprese siano sane, vadano bene, occorre diminuire il costo dell'energia, quindi oggi io e Morgora ci dedicheremo a questo. Il problema, mi pare che questo, l'ho detto adesso perché parlate di lavoro, il punto principale che io ho trovato nei bilanci delle imprese è il costo della corrente elettrica, quindi produrre la corrente elettrica, da noi si può, certo noi non abbiamo i posti di petrolio, però abbiamo l'energia biaca, abbiamo l'acqua, altra che abbiamo i posti, e quindi c'è un'energia che può essere prodotta dai boschi, quindi in Germania così fanno tutta l'energia utilizzando i boschi, la legna, e quindi vorrei proprio dedicare insieme a Morgora oggi a metterci un disegno di legge di questo tipo. Infatti nella mozione territorio credo che si parli esattamente anche di questo.